Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina si segnalano tre chilometri di coda in direzione Livorno e rallentamenti in direzione Firenze. In A1 panoramica per lavori stanotte saranno chiusi i tratti tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra l'allaggiamento con la variante di Valico e Roncobilaccio in direzione Bologna in orario 22.6. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Per la viabilità cittadina a Firenze si ricorda che per l'emergenza Covid è stata sospesa la ZTL estiva notturna che sarebbe dovuta scattare il 1 aprile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!